Eccoci qua, comincio con la Superbike, visto che ero in Spagna, il cui tema importante è la leadership assoluta e indiscussa di Sais che fa doppietta, Melandri fa una garaccia a gara 1 che nessuno gli perdonerà mai nonostante gara 2 l'abbia corsa, benissimo, è sempre così con Melandri, le cose buone che fa non se le ricordano mai, ci ricorderemo però che qui a Aprile ha sempre fatto quello che ha voluto, mentre oggi ha preso un po' di schiaffi restituendone qualcuno in meno, quelle che sono andate bene sono le Ducati, Giuliano ha strabiliato in gara 1 prima di fare una mega fesseria che però fa parte del suo essere Davide e Giuliano, fare sempre all in, se fossi un pilota sarei così sti cazzi, Davis ha corso molto bene, gara 2 è andata invece al contrario, Davis si è fatto subito fuori, Giuliano ha portato la rossa al traguardo, la Ducati c'è, nella Evo non è male c'è Canepa e nella Stock tutto sommato il lavoro di Barney, paga, Barney è bravo e funziona sempre, ma il tema più caldo è quello legato alla Bimota, c'è chi asinamente la definisce moto fuori legge, chi moto che corre con regolamento subiudice, Bimota non è né fuori legge né subiudice, Dorna ne ha fatta una giusta, ha fatto in modo che si aggiungesse un'altra casa ufficiale, l'unica cosa che un'organizzazione deve fare, Bata, team leader di All Star, ha scelto la casa libera più prestigiosa con il miglior motore a disposizione e l'ha portata in Superbike Evo, senza fare la cazzata della Superbike Full al debutto, la cosa migliore che un imprenditore potesse fare, la Bimota che ha sempre fatto il moto da corsa, costose, prestigiose, ha scelto la ventrina migliore nella condizione migliore, con il team meglio attrezzato, una mega operazione simpatia in cui non è neanche condannata o obbligata a vincere, la cosa migliore che una piccola casa potesse fare, la federazione internazionale che dorme sulle cose per cui deve stare sveglia e sta troppo sveglia sulle cose che dovrebbe lasciar correre, a momenti faceva l'unica cosa che non doveva fare, mandare tutto a monte, non accettando di modificare il regolamento, la Bimota non è fuori legge e né subiudice, questo lo dicono i rosiconi che non possono smentire di aver scritto tempo fa che Bata non avrebbe corso, perché non ci credevano, e gli asini che non hanno studiato il latino. Se il regolamento richiede meno moto da produrre quest'anno per via del fatto che non si vendono, non è colpa di nessuno, né di Bimota e né di All Star, né di nessun altro, ed è giusto tenere in considerazione questa cosa, qualcuno costretto ad omologare la moto l'anno scorso o due anni fa può dar fastidio, ma magari l'anno prossimo per vicissitudini di mercato simili le moto da omologare potrebbero essere ancora meno, oppure tornare di più, non è colpa di nessuno. Per quanto riguarda subiudice, se pago il mutuo, casa mia è casa mia, quando salta una rata la banca può prendersi la casa, allo stesso modo se Bimota durante l'anno rispetta le regole e fa quel che deve, ha diritto di correre. Se a fine anno sarà in adempiente, andrà a casa, bisognerà a vedere cosa fare. Trovo poco felice, al di là del fatto di non dare i punti, la scelta di non mettere in classifica, neppure con un asterisco, Badovini e Idon nelle posizioni in cui sono arrivati, arrivati molto prima di tanti altri colleghi, full factory comprese. Badovini ha fatto secondo nella Ebo in gara 1 e insieme al compagno è stato messo dopo quelli che non hanno finito la gara. Io li avrei lasciati in rosso, oppure con una dicitura non score, niente punti, ma così la gente non ha capito come sono arrivate le Bimota, al di là del fatto che non gli dà i punti, non hanno capito come sono arrivate. Il lavoro della squadra al debutto non è stato premiato per niente, come se fossero arrivate ultime. Se fossero arrivate ultime però io sono convinto che questa cosa l'avrebbero fatta risaltare di più, invece evidentemente non si è voluto scontentare troppo quelli che sono arrivati dietro. Beh, non sono andate male per niente le Bimota che avevano solo 250 km relativo, sono andate meglio delle EBR e meglio delle MV e i problemi arriveranno quando andranno meglio di tanti altri, succederà presto, allora si crozicheranno in tanti. A Bimota aspetta una stagione durissima, molto più dura dal punto di vista politico e di comunicazione che di quello sportivo. Il brand ne uscirà rinforzatissimo se fa le cose come deve fare e si venderanno Bimota come non se ne sono mai vendute se riescono a farle. Sicuro Battà è un genio e quelli che lo hanno scelto per quest'operazione non sono da meno. Per il resto la Formula d'Orna funziona a metà. Troppo poca differenza fra le ufficiali e le Evo veloci. È un abisso poi fra le varie Evo. E poi ci sono le Superbike non veloci inghiottite in una situazione in cui non sanno, in cui non hanno nessuna visibilità. Spendono come una Superbike ma hanno meno visibilità delle Evo stesse, che a loro volta sono quasi ignorate. E il cambiamento della Formula Superpol garantisce più visibilità a tutti. È vero. Ma azzera lo spettacolo. Stessa cosa per le due mance. Troppo vicine secondo me. Non si lavora bene. Per motivi di sicurezza bisognerebbe ripensare al muletto. Il rolling chassis costa poco di meno e mi preoccupa un pochino dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda la MotoGP l'ho vista in Spagna su Telecinco, che non sembra nemmeno lontana parente della media set italiana. Gente vestita bene, con facce normali, non sudata, pezzata, che parla di moto e non si fa i cazzi suoi durante la gara. E non ha nemmeno un team tutto suo adesso col nome della tv per cui fare il tifo. Il riquadrino è grande esattamente quanto alla pubblicità, con una banda rossa sotto, anche se devo dire che la pubblicità dura veramente tanto. E i commentatori però durante la trasmissione non fanno altro che parlare di moto. È incredibile. Pensate che si sono filati persino a Bautista e hanno dato a tutti lo stesso spazio. Beh, a Marquez un po' di più, devo dire. Uguale uguale a quello che succede da noi, no? La gara lo sapete com'è andata. Marquez vincerà tutto e l'effetto Valentino Viagra per Sky non è durato neanche una gara. Il morale di Sky è bassino, perché Fenati non può essere sufficiente per tutti i soldi spesi dall'emittente e tutti i soldi che si chiedono agli utenti. La cazzata di Lorenzo in partenza gli ha consentito di arrivare nei 10 nonostante il write-through a soli 3 secondi da Valentino, due posizioni dopo. 48 contro 45 di ritardo. E sono un abisso, eh? Ma puniscono più Rossi che non hanno dovuto fare la pausa ai box. L'erezione è durata una gara. Se la prossima gara Rossi non torna sul podio, addio abbonamenti nuovi. E forse anche addio a quelli fatti, perché mi pare si possa disdire. Forse possono dare una mano alle ducati che si sono svegliate e doviziosi e andato sul podio. Vedeste come solo sono filate in Spagna? Poco? Devo dire. Come da noi però. Non hanno trovato però, come da noi, la maniera di allestire uno scusodromo per chi ha perso. Gli spagnoli hanno molto da insegnarci. Sono più veraci, cioè guardano più il cronometro, giudicano i fatti, si fanno delle pimpe mentali, ma rispetto a noi sono dei direttanti. Ma hanno molto da insegnarci come giornalismo, come piloti, come attitudini da parte dei piloti e come pubblico. Forse è per questo che riempiono loro i podi e sono proprietari loro della giostra. E noi non siamo più padroni di niente, nemmeno della nostra federazione che sembra far di tutto per farci andare a correre all'estero. anche se, devo dire, che l'ultima data del civico che ho visto ha dato dei segnali di risveglio dal punto di vista dello spettacolo, dell'agonismo e delle corse. Peccato che sugli spalti non ci fosse nessuno. Concludo questo video con il saluto a uno di noi che non c'è più, Emanuele Cassani, classe 88, è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente di gara avvenuto in occasione della Coppa Italia, precisamente durante il trofeo Bridgestone 600 fatto a Misano. L'ho saputo, ho appena tornato in hotel, ero in viaggio da Aragona a Barcellona. Non voglio fare polemica sulla sicurezza, dare colpa a chi che sia, non so niente, in effetti, di cosa è successo. Pare sia stato inevitabile. Vorrei solo salutare uno che, come noi, amava lo sport più bello del mondo, e che adesso non c'è più. Aveva, mi sembra, 26 anni. Ciao a tutti.